L'assalto all'Europa della Tonno Callipo entra nel vivo. La vittoria contro Sora è ormai archiviata, giallorossi proiettati già verso il prossimo impegno. Si torna in campo sabato contro Verona, gara valida per l'andata dei quarti di finale dei Playoff Challenge Cup. Trenta, i precedenti tra le due compagini, il bilancio è tutto a favore della Tonno Callipo. Il primo risale al 2001, campionato di Serie 2. Tre gli ex di turno, uno in Casa Verona, Marretta, due in Casa Tonno Callipo, Leca e Coscione. Continua quindi il sogno, ancora forte la voglia di riscatto e ancora una volta la società batte i prezzi dei biglietti chiamando a raccolta i tifosi. Tutti al palazzetto, appuntamento al Palavalenza, sabato 31 alle 18. In Serie 2 di basket invece ferma la viola, rinviata il 19 aprile la gara contro Treviglio in programma sabato. Ma le preoccupazioni sono ben altre. La società è stata infatti deferita in seguito alla vicenda della fedegliussione ritenuta non idonea, rischiando ora la retrocessione o in alternativa una forte penalizzazione. Per saperne di più bisognerà aspettare il 9 aprile, data della prima udienza. Maria Chiara Sigillò per l'AC News 24. Maria Chiara Sigillò per l'AC News 24. Maria Chiara Sigillò per l'AC News 24. Maria Chiara Sigillò per l'AC News 24.